ciao a tutti ragazzi sono vero non vanto allora sono molto contenta allora ho avuto questo lo voglio proprio aprire con voi questa è la seconda parte comunque cosa è la seconda parte vi voglio far vedere tutte le mie carte nuove quelle giganti che ho da qualche parte questa guardate che bella sono in inglese quindi va bene così come in inglese è ok ora voglio farvi vedere la la particolarità le belle per metterci dentro le carte ma io non le metto sono tutte in inglese sono tutte carte una più bella dell'altra guarda che bella lucario sono in inglese ma sono sempre una carta una più bella dell'altra guarda questo che bello me l'ha regalato mia madre purtroppo mamma non può più non può partecipare ai video perché mamma sta male quindi non può più parte momentaneamente mamma adesso non può partecipare perché non sta bene una voglia di partecipare e io non sono una figlia stronza che obbliga che obbliga la mamma la figlia stronza che obbliga la madre a fare i video con me vediamo quando sto bene farò i video io vorrei fare un video tipo la burro birra così perché ho comprato la mamma la burro birra l'ultima volta che siamo andati a comprare caramelle era prima di halloween perché sono andata anche a comprare gli occhi quindi era completamente halloween capito quindi si era prima di halloween perché poi era giovedì poi io venerdì mi sono ammalata mi sono ammalata quindi quindi niente non l'ho non ho fatto niente il giorno di halloween ero ancora ammalata quindi penso che giornata bella che giornata bella che ho passato a letto a tossire e a stare male e quindi non ho potuto fare neanche un video come volevo fare un video con la mamma ma anche mamma non sta completamente al top quindi niente più e niente meno quindi finché mamma sta bene non facciamo nessun video perché appunto non sono figlia stronza che obbligare la propria madre ovviamente a fare il video poi abbiamo avuto questi qui gli stickers per metterci il nome dei me contro te a posto noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao